Buongiorno, buongiorno e bentrovati in questa edizione di mattino 6, mercoledì 11 gennaio 2017, chiaramente sempre il maltempo a tenere banco sulla nostra regione anche se nelle ultime ore questa forte ondata di maltempo si è attenuata ma restano le temperature piuttosto basse e restano i disagi in particolare legate alle scuole, molte delle quali sono ancora chiuse e poi particolari disagi ancora in diversi paesi, soprattutto dell'entroterra teatino. Poi chiaramente vedremo tutto questo nel corso della nostra rassegna a stampa quando sfoglieremo le pagine dei quotidiani locali ma come sempre vedremo anche le prime pagine delle testate nazionali. Iniziamo la nostra rassegna con i quotidiani locali, con le quattro edizioni del centro ma anche messaggero Abruzzo e la città. Qui siamo sul centro edizione dell'Aquila, l'apertura, freddo e ghiaccio e stato di calamità. La regione si mobilita richiesta ai comuni sui danni subiti dal maltempo. Poi vediamo sotto la testata data basse, 15 mila nomi, mail rubate a politici e istituzioni, due arresti. Risposta a Cantone, il presidente dell'ANAC, l'autorità anticorruzione. Regione, in carico di D'Amico, l'avvocatura, non c'è illegittimità. Poi al centro vediamo la fotonotizia, ancora disagi in Abruzzo, bufere, paesi isolati chietino nella morsa del gelo. Leggiamo ancora alcuni richiami per quanto riguarda fatti nazionali non svolte europee, retromarcia dei 5 Stelle, Grillo ci ripensa, ancora con Farage Sanità, ospedale di Nola, Lorenzina e Medici, siete degli eroi. Stati Uniti, Obama saluta Trump verso il comando. Poi ancora richiami di cronaca per quanto riguarda l'Aquila e provincia, il prefetto, il nuovo prefetto, stop alle infiltrazioni mafiose. Il caso, liceo musicale bocciato, rivolta nella Marsica, a Sulmona, ZTL ed inverno, i commercianti dicono no. Poi l'Abruzzo dei senza tetto, storia di disperazione tra i nuovi poveri vittime della crisi. Poi in basso l'Aquila, elezioni parlano i giovani, più lavoro, trasporti migliori e ricostruzione veloce. A Cerchio, nella Marsica, bancarotta fraudolenta, processo per tedeschi. Vediamo ora la prima pagina dell'edizione di Chieti. Fossa cesi, a poste rapinate, i banditi sfidano la neve, erano due armati di pistola e coltello, hanno preso in ostaggio l'unica impiegata del piccolo ufficio di Villa Scorciosa, portando via 400 euro e lasciando impronte sul manto bianco. A Chieti, parroco scivola sul ghiaccio e si frattura. E a Casalanguida, malore colpisce il sindaco più giovane. Sempre in basso, Chieti, Ateneo, rettore EDG, diffidati, senatore accademico risponde alla punizione ingiusta. E per lo sport, chi di calcio radiato dalla Federcalcio, ormai è finita. La prima pagina di Teramo. Giulianova di Silvestre ha colpito per uccidere, così il giudice emotivo alla condanna a 14 anni, in fritta al caldaista che del giugno scorso, dopo una dita stradale, ha ucciso un imprenditore nel centro della città giugliese. Mal tempo, scuole chiuse in 18 comuni e aperte in città. Pineto, scontro mortale, condannato dopo nove anni. E poi in basso, la buona sanità dalla Cina, si fa curare ad atri, endocrinologia, con un trattamento, evita l'operazione. E per il calcio, il Teramo su Marconi, Bulevardi, verso l'addio. L'edizione di Pescara, porto insabbiato, parte subito il mini dragaggio. Mal tempo, già finito il sale sulle scuole chiuse, è polemica. A Pescara sempre coca spacciata per arrosticini, tre in carcere. Per il calcio, Pescara assalta ad Augustin, si stringe per il francese. Oggi il CT Ventura, in visita al Delfino. Sempre a Pescara, i tassisti, no ai bagni, a pagamento, alla stazione. E ora vediamo la prima pagina del messaggero. Abruzzo, meningite, cento sotto profilassi. Penne, bambino ricoverato dopo capodanno all'ospedale di Pescara con i sintomi del contagio. Era stato a un celone a Sulmona. Tutti i clienti in terapia, ora le analisi rivelano. Era un altro virus. Poi sotto la testata, il compleanno, inserto speciale sui 90 anni di Pescara. Domani sul messaggero. L'Aquila, Campo Imperatore, gli operatori senza investimenti, siamo condannati. Calcio, il Pescara scopre Cubas e intanto cerca altre punte. Il centrocampista argentino è arrivato ieri presso l'ok per Mandragora in attacco. Oltre ad Augustin piacciono anche Razic, Rodriguez e Pesic. Poi di spalla, Chieti in orbita. L'università studia le cellule di Paolo Nespoli, l'astronauta sottoposto a biopsia a terra e nello spazio gli esami all'annunzio. Poi in taglio medio vediamo la fotonotizia. Prigionieri senza viveri nell'inferno bianco, l'emergenza neve, il dramma di schiavi d'Abruzzo con una foto che davvero dice tanto, con una anziana che sta spalando davanti casa, un vero e proprio muro di neve. Droga. I pescaresi facevano affari con l'andrangheta, cocaina dalla Colombia, arrestati Luigi Sivitigli e i commercianti di caffè Paolo e Mirko Manzo. In basso gli ambientalisti, la caccia va sospesa. Prima pagina della città, il Quotinano della provincia di Teramo, scuole e neve, chi apre e chi chiude. Il maltempo allenta la presa, a Teramo si torna sui banchi, sulla costa nuovo stop dopo il caos. Poi sotto la testata le conseguenze delle elezioni provinciali a Teramo, dopo il voto avvelenato dai franchi tiratori. Caso di Marco, i renziani meditano il ricorso al Tar. Teramo, la presidenza Team, obiettivo del sindaco. E poi ancora l'intervento di Marcello Maranella, la casa dei comuni. Vediamo ancora al centro la fotonotizia per lo sport. Il grande ritorno, Amadio torna in prestito dal Latina, torna chiaramente al Teramo. Di spalla, bando periferie, Teramo zero euro per quattro progetti riciclati. Ricostruzione, cauto ottimismo per il nuovo polo scolastico. E poi lettera all'Anac, i sindacati difendono d'amico in tua. Sbrogliato il ponte sul Vomano, appalto affidato dopo un anno e mezzo di ricorsi. E poi scultura dalla Biennale di Gubbio, l'ultimo saluto all'arte di Giancarlo Ciannella. Lasciamo per qualche minuto la rassegna dei quotidiani locali. Passiamo ora alle testate nazionali, vediamo le prime pagine. Iniziamo dal Fatto Quotidiano. Salvataggi, altri due impuniti. Albertini è libero di diffamare Poletti, di sparare fesserie. E poi ancora leggiamo l'inchiesta del Fatto di Giuseppe La Terza. La classe dirigente c'è già, ma i partiti non la riconoscono. In taglio a meglio, i fratelli hacker spiavano Renzi e Company, mistero su migliaia di mail criptate dall'ex premier a Draghi, al Vaticano, dai massoni alla Guardia di Finanza. I gnoti, i committenti, in almeno sei anni di attività, erano arrivati a detenere una banca dati di 18 mila profili conservati e schermati su server americani. Indaga anche l'FBI. A proposito degli Stati Uniti, l'ultimo discorso, ciao Obama, lascia più sogni che realtà. Andiamo ora alla prima pagina di Libero. Abbiamo altri nomi. I bidonisti del Monte dei Paschi tremano. Famosi industriali tesseri, l'immobiliarista statuto, proprietario dell'hotel Danieri di Venezia, Coop, le grandi navi veloci, alcune società del gruppo Semeraro. Ecco dove Monte dei Paschi ha alzato bandiera bianca. Quanto guadagnano quelli che hanno distrutto la banca? Gli stipendi dei grandi capi. Poi l'editoriale del direttore Vittorio Feltri. Niente soldi finché non vuotano il sacco. Ecco cosa deve fare il governo. Poi la fotonotizia. Inizi lei a levarsi dai piedi. Le improbabili scuse del ministro Poletti. E poi ancora, spiate le mail dei potenti, inizia il festival dei ricatti. Prima pagina del giornale, il grande fratello delle email. Ecco tutti i nomi dei VIP e politici spiati. Smantellata una banda che intercettava esponenti di politica, finanza, esercito e Vaticano. Sicurezza nazionale a rischio. In basso, Grillo torna in ginocchio da Farage. La retromarcia dei Cinque Stelle dopo il no dei liberali. Il Corriere della Sera, l'archivio segreto delle spie. E-mail rubate a Renzi, Draghi, Monti. Il giudice a rischio della sicurezza dello Stato. Presi un ingegnere massone, la sorella. Intrusioni su 18.000 utenze di politici e manager. Poi ancora, la fotonotizia al centro. Obama a Trump. Non guardare indietro. Dopo otto anni alla Casa Bianca. L'ultimo discorso del presidente uscente. Grillo con Farage. Tre euro deputati pronti a lasciare. Le tensioni dopo il no dei liberali. In basso, le scienziate delle stelle rientrano in Italia. Da cervelli in fuga a ricercatrici dell'Agenzia Spaziale. Meno soldi, ma si realizza un sogno. La Repubblica. Così spiavano Draghi e Renzi. Arrestati fratello e sorella legati alla massoneria. Da sei anni violavano mail dei vertici dello Stato. Account protetti male e mai disattivati. Perché si moltiplicano questi attacchi e come difendersi. Poi ancora, la fotonotizia. Farage si riprende Grillo e detta le regole. Dopo il no dei liberali, il Movimento 5 Stelle chiede di tornare con gli anti-europeisti. Poi ancora leggiamo il lavoro. Boeri Vaucer. La CGL è ipocrita. Ne ha usati 75 mila. Poi Padoan in Italia. Risparmio al sicuro. Chi froda pagherà. Avanti ancora con il tempo. Occhio. Ti spiano. Arrestati fratelli. Occhio nero. Spiavano Renzi Draghi. Vertici di Guardia di Finanza. Servizi e migliaia di altre persone. Parle Gran Maestro Bisi. Noi vittime. Tutelate i 300 fratelli. L'ex hacker Ghioni. Dietro ci sono i 007. Qui vediamo tutta una serie di nomi tra coloro che sono stati appunto spiati. In basso, così, Monte dei Paschi accontentava tutti, dall'Arci ai partigiani fino ai Pollai in centro Africa. Le spese della fondazione. La stampa. Il giallo dei fratelli che spiavano l'Italia. Violati 1793 indirizzi di posta elettronica. Nel Merino anche Renzi Draghi, Ravasi e Monti. India. La rivolta contro il divorzio Lampo. Questa è la fotonotizia. Per separarsi basta che il marito dica tre volte Talak. Donne musulmane nelle piazze. Avanti ancora con la verità. Le Coop che hanno affondato Monte dei Paschi. La Centro Italia e la Olmo hanno ricevuto finanziamenti milionari. Le storie di Boccia e Falciai. Altro elenco di grandi debitori. E poi ancora. Avanti con il messaggero. Una rete spiava i segreti di Stato. Smantellata a Roma una centrale di cyber spionaggio. Arrestati un ingegnere e la sorella. Controllavano mail di Renzi Draghi, Monti e Società. Il GIP. Sicurezza nazionale a rischio. Sotto la testata calcio via libera FIFA dal 2026 mondiali extra large a 48 squadre. E poi ancora in basso la fotonotizia. Sorteggio per le casette ai terremotati. Al momento non bastano i prefabbricati. Decide la fortuna. Tutto questo a Norcia. Sempre in taglio medio. Retromarcia Grillo. Ora torna da Farage. Si voti contro l'Euro. Avanti ancora con il manifesto. Il voucher del padrone con una foto del ministro Poletti in Senato. Sui banchi deserti del governo. La triste autodifesa del ministro Poletti per le fallimentari politiche del lavoro di Renzi. Poi le scuse per l'infelice battuta contro i giovani precari costretti a emigrare. Oggi sarà la consulta. Decidere se saranno gli italiani a esprimersi con il referendum contro il Jobs Act. L'unità. Democrazia in difesa dai cyberspioni. Com'è possibile che siano state violate mail e password di capi di governo e presidente della BCE? A chi servivano le informazioni riservate raccolte per anni dai due fratelli arrestati? E poi la foto con Grillo e Farage. L'odore dei soldi. Avanti ancora il mattino. I fratelli che spiavano il potere. Andiamo rapidamente. Il gazzettino. Così spiavano i potenti d'Italia. Chiaramente questo è il fatto che caratterizza le prime pagine dei quotidiani nazionali. Presi gli spioni del potere italiano. E poi la fotonotizia ciclone dei Filippi sul festival. La regina degli ascolti vuole rinunciare al cachet. Gazzetta del Mezzogiorno. La rete dei grandi fratelli. L'avvenire migranti. Tempo di buone regole. Possiamo lasciare dunque le pagine dei quotidiani nazionali. Torniamo sui quotidiani locali. Andiamo ad approfondire le pagine del centro. Pagina 2 e 3. Si torna a parlare chiaramente del maltempo. Il momento della conta dei danni. La regione dichiara lo stato di calamità. La richiesta di stato di calamità. Ma l'emergenza non è finita da venerdì. Le precipitazioni nevose interessano anche Valeroveto, Marsica, L'Aquila, Mazzocca. Stiamo preparando l'iter per finanziare gli interventi soprattutto nei piccoli comuni. La giunta pronta a valare la richiesta. Gli enti locali dovranno stilare la lista anche se provvisoria delle necessità. Poi ancora agricoltura in ginocchio. Il report della col di reti. Danni ingenti al settore aorticolo. Molti allevamenti senza acqua. La grave situazione si riflette anche sulla produzione di latte e carni. Crolli del 30%. È difficile raggiungere le stalle per la mungitura mentre gli abbeveraggi sono ridotti. Poveri e senza tetto. Al freddo disperati. Viaggio tra gli invisibili. Da Pescara a Teramo. Le storie esemplari delle vittime della crisi. La vita mi fa male. Il lavoro non lo cerco. Questa è una delle testimonianze. Non lo cerco neanche più. Una casa la vorrei ma da solo. Non mi servono i furbi che si avvicinano. Non vogliono nessuno con me. È arrivato l'Euro e ci ha messo tutti davanti alla TV. Avevo una famiglia, un conto in banca. Non mi è rimasto nulla e sono scivolato in strada. Poi ancora a Chieti. Un villaggio per i più fragili nella struttura di Suor Vera. Tante persone in difficoltà. Terremotati, sfrattati, profughi e separati. Poi ancora nelle parole dell'economista Pino Mauro. Nuovi indigenti sempre più giovani. Figli della crescente disuguaglianza. I voucher. Una forma estrema di precarizzazione che rimanda nel tempo. il problema del lavoro. Avanti ancora con le pagine della regione Abruzzo. La regione fa quadrato su D'Amico. Per l'ANAC il rettore è incompatibile con la carica di presidente tua. L'avvocatura non c'è illegittimità. Per l'ente l'incarico nell'azienda dei trasporti non è gravoso perché è svolto senza vincolo di subordinazione e non competono all'interessato poteri gestionali. E poi Unipol 6 subentra alla Cattolica. Il Tar annulla la gara per l'assicurazione dei mezzi. Per i giudici amministrativi c'è conflitto di interessi personale e familiare tra il broker che ha impostato il bando e la società che si è aggiudicata l'appalto. In basso leggiamo di scarica di bussi. Riprende il processo all'Aquila in corte d'assise. Poi si riuniscono i CDA Carichietti. Oggi l'offerta d'acquisto di UbiBank. Avanti ancora con le pagine della cronaca di Pescara. Famiglie nel dramma porto chiuso. Niente lavoro per centinaia di marinai. Fondali bassi, imbarcazioni bloccate. Adesso la politica ci deve rimborsare, dicono. E poi ancora il piano di interventi. Subito un mini dragaggio. Oggi la consegna dei lavori. La storia. Ho perso il posto in un'azienda e ora quello di marinaio. In un anno Lino Savini, che vediamo nella foto, si è visto bruciare tutte le possibilità di avere un reddito. Poi ancora gioiello della nautica si schianta contro la banchina Nord. Barca spinta dalla Burrasca. Allora ieri c'è stata questa riunione. Abbiamo avvicinato anche il comandante della direzione marittima Moretti. Vediamo il servizio. Comandante Moretti, appena terminato questo incontro con la marineria pescarese. Ieri sera avete messo questa ordinanza per il divieto di entrata e di uscita dal porto di Pescara. Qual è la situazione e il perché di questa ordinanza? Allora, chiaramente l'ordinanza trova la propria motivazione nella necessità imprescindibile di salvaguardare la vita umana. Evidentemente si corrono dei rischi a fronte di una situazione dei fondali incerta dovuta alla mareggiata che c'è stata. La mareggiata ha cambiato completamente il profilo dei fondali, quindi era necessario procedere a dei rilivi batimetrici per renderci conto esattamente di quale fosse la situazione. Stamattina siamo riusciti, approfittando anche di un momento in cui il mare lo consentiva, e abbiamo proceduto in maniera sempre espeditiva, con dati non ufficiali, ma abbastanza attendibili. Quindi in giornata adotteremo una nuova ordinanza con la quale consentiremo, riapriremo la possibilità di uscire soltanto alle unità che peschino meno di 2,10 m che è la quota al momento che consente di uscire con ragionevole sicurezza. Fermo restando che non è che stiamo soltanto a guardare la situazione così com'è, ma insieme agli altri enti competenti, la regione, il provveditorato in particolare, stiamo lavorando perché abbiano inizio quanto prima i lavori di tragaggio che sono stati consegnati, dovrebbero essere consegnati in giornata, per poter superare anche questa situazione di difficoltà. Il comandante Moretti penso che sia stato molto esplicito quando dice che anche le piccole imbarcazioni sono in stato di pericolo durante le operazioni di uscita e rientro perché con le onde, con il moto ondoso si creano dei vuoti e il fondale dove magari sfiora un metro e mezzo, un metro e sessanta potrebbe ridursi anche a meno di un metro e quindi questo non è una sicurezza anche per le piccole imbarcazioni. Sempre sulle pagine del centro e sempre a Pescara e nel pescaresi, il maltempo non si ferma, già finito il sale nei comuni, scuole chiuse e polemiche, in città stop alle lezioni comunicato alle 7 e 40 ieri mattina, in migliaia ancora senza acqua e poi in basso leggiamo penne, elicottero per un infartuato, uomo salvato dal 118 e trasferito a Pescara, ancora poca acqua e telefoni in tilt, quante cadute sul ghiaccio, un altro disagio particolare evidentemente in questi giorni per tante persone, pronto soccorso in affanno, aumentano le fratture di bacini e femori ma c'è anche la psicosi da meningite, il primario Albani, i cittadini vengano in ospedale solo per casi di grave necessità e poi vediamo qui questa foto, meningite vaccinazioni e prenotazioni tutti i giorni al poliambulatorio dell'ospedale civile, a Manopello, crisi idrica nelle contrade, a secco fino a ieri sera i rubinetti di Cupa, Ruano e Ripa Corbaria, aperta la strada per Passo Lanciano, per la cronaca a Rosticini e Pizza invece è la coca dell'Andrangheta, tre pescaresi arrestati in un'inchiesta sul traffico di droga con la Colombia, i personaggi coinvolti, zio e nipote, accusati di comprare sostanze stupefacenti da spacciatori calabresi per rivenderle a Pescara, nel circondario e a Chieti, telefonate intercettate, gli indagati sognano di diventare ricchi ma spesso gli affari vanno a Monte a causa della mancanza di soldi. E poi la protesta di 40 tassisti, no ai bagni a pagamento, stazione, gli operatori Cotape versano 70 centesimi a ogni ingresso nella toilette, di notte è tutto chiuso e non c'è neppure un gabbiotto per ripararsi dal freddo. Avanti ancora l'edificio storico demolito, il comune verso l'accordo per far rinascere la Filanda, pronta la delibera per dare il via alla trattativa con il proprietario dell'immobile. Il progetto dai ruderi dell'ex opificio Gian Maria, un museo del lavoro femminile. Poi la giunta lascia invariate le tasse locali, IMU, addizionale IRPEF, Asili e Mense restano ai livelli del 2016, la Tari è già stata ridotta l'anno scorso. E andiamo nelle pagine di Montesilvano, le parole del sindaco Maragno, meglio evitare la galleria a senso unico, riferimento alla galleria I Pianacci. Il primo cittadino rilancia le soluzioni alternative per migliorare la viabilità e ridurre il carico di inquinamento che sta affliggendo la zona nord della città. Poi ancora liquidazione della Eco M, utili per circa 1,3 milioni. Orsini ci ripensa, voterò il sindaco, andrà alle urne per le elezioni provinciali dopo aver detto che avrebbe disertato. E poi in basso in mostra foto di ex sindaci e coppie di sposi, nuova iniziativa del progetto Montesilvanesità, anche con personaggi storici dello sport cittadino. Avanti ancora, scuole tutte aperte ma in classe arrivano poche alunni e prof. Francavilla, nell'unica città che ha garantito l'accesso alle sedi, nonostante il maltempo, registrate assenze del 30-40%. A Chieti, rapina postale con ostaggio, in particolare a Fossacesi, a due bandini, due banditi, puntano le armi contro la cassiera. Il bottino è solo di 400 euro. E poi un malore ferma il sindaco più giovane, Casalanguida Conti, di 23 anni. Lo vediamo nel foto. Luca Conti, ricoverato alla testa dopo 66 ore sulla Ruspa. Ora sta bene, dopo aver accusato un malore. E siamo a L'Aquila. Il nuovo prefetto, Linardi, nostra priorità assoluta è evitare le infiltrazioni mafiose. Ieri in insediamento non ero mai stato nel capoluogo, ma vedo che c'è una grande voglia di rinascita. L'idea che mi sono fatto è di una città molto attiva, determinata, nell'uscire da questa crisi. Allora, andiamo a vedere il servizio realizzato dalla nostra redazione aquilana sull'insediamento del nuovo prefetto. Non conoscevo l'Aquila, ma me l'hanno descritta come una città magnificamente bella. Oggi la vedo ferita, ma con tanta voglia di fare e ricostruire, vedo tanti cantieri. Si presenta così il nuovo prefetto dell'Aquila, Giuseppe Linardi, che dal 2 gennaio ha assunto l'incarico. Un prefetto esperto in prevenzione antimafia dal momento che per 30 anni ha prestato servizio all'interno del Dipartimento per la Pubblica Sicurezza. All'Aquila dice che sono state 41 le interdittive antimafia. Non è poco. È il segnale che la criminalità organizzata ha provato ad entrare nella città. Allora, questo è il core business dell'attività della Prefettura dell'Aquila. Noi dobbiamo fare prevenzione antimafia. Possiamo anche provare, proveremo ad estendere praticamente il sistema di prevenzione antimafia. C'è il sistema dei protocolli di legalità che riguarda non soltanto che possiamo adottare, mia intenzione adottare, e che riguardano tutta quanta la provincia. Un buon sistema di protocolli di legalità con quelle che sono le stazioni appaltanti principali, a prescindere, prescindiamo anche dalle stazioni appaltanti che si stanno occupando dalla ricostruzione dell'Aquila, si è dimostrato a livello nazionale un sistema efficace in certi contesti per aggiungere un maggior sistema di prevenzione. Sullo sciame sismico che sta interessando l'Alta Valle dell'Aterno, il Comune di Monteriale e Paesi di Mitrofi, il Prefetto assicura massima attenzione e monitoraggio. Prefetto, dopo il terremoto di agosto ad Amatrice e altri, c'è questo sciame sismico che sta interessando in questo momento l'Alta Valle dell'Aterno, il Comune di Monteriale, quindi ovviamente di riflesso c'è anche l'Aquila di Mezzo. Come state monitorando la situazione come prefettura? Beh, guardi, noi naturalmente da questo punto di vista siamo particolarmente attenti perché ovviamente si tratta di fenomeni preoccupanti, tenuto conto anche di quello che è successo all'Aquila. Oltre questo praticamente, chiaramente non le posso dire, noi abbiamo praticamente dei livelli di attenzione, ecco, che diventano progressivamente più elevati man mano che arrivano segnalazioni, come dire, praticamente di allerta particolari. In questo momento praticamente io non ho ricevuto segnalazioni di allerta particolari. Andiamo a chiudere la rassegna della cronaca sul quotidiano del centro con la pagina di Teramo. La buona sanità, una paziente da Shanghai ad Atri per curarsi una cistia alla tiroide. L'endocrinologia attrae malati da tutto il mondo anche se ci lavorano solo due medici e quattro infermieri. La donna, manager di una multinazionale, è stata trattata in 12 giorni e ora è tornata in Cina guarita. Qui vediamo anche una foto del primario del reparto di endocrinologia di Atri. Bruno Raggiunti in basso ha colpito sapendo di poter uccidere le motivazioni della condanna a 14 anni del caldaista di Silvestre, omicida dopo una lite stradale, respinta le ipotesi della legittima difesa del preterintenzionale. Il magistrato, ma non stiamo giudicando un assassino che ha agito con freddezza. Noi ci fermiamo qui, andiamo ora ad ascoltare, a vedere le previsioni meteo, dopodiché la pubblicità, quindi la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo buongiorno, la seconda parte di Mattino 6 riprendiamo dalle pagine del messaggero Abruzzo per la cronaca. I signori della droga, soci dell'andrangheta, in manette i commercianti di caffè Paolo e Mircomanzo e Luigi Sivitigli. I clan Morabito, Bruzzaniti e Palamara gestivano il traffico dal Sud America. E poi ancora la cocaina arrivava da Bogotà al porto di Gioia Tauro con la copertura di società di import di pesce e ortofrutta. E poi ancora nove arresti, migliaia di controlli, i carabinieri al lavoro sotto le feste. Sempre per la cronaca, gioielli spariti, la cassetta era sbagliata. E poi questo fatto alla Golena Nord, camion si incastra sotto il ponte, come possiamo vedere nella foto. Avanti ancora meningite, panico tra Popoli e Sulmona per un caso sospetto. C'è stato allarme dopo l'analisi di laboratorio, ma di fronte ai primi sintomi è scattata la profilassi per oltre 100 persone. Il ragazzo di 11 anni aveva trascorso con la famiglia il capodanno in un locale della città Peligno. Poi come abbiamo visto prima anche nel servizio, fondali bassi di vieto di uscita dal porto. Oggi si assegnano i lavori del dragaggio a Nicolai Lappalto per 10.000 metri cubi. Padovano sollecita uno scavo maggiore, ma tutto dipende dalle analisi ARTA. Siamo nelle pagine di L'Aquila e Provincia. Di Benedetto forza la mano, chi ha ruoli lì mantenga. Il presidente della GSA fissa un paletto nella scelta del candidato sindaco del PD. Lolli, Pietrucci e Pezzopane sono fondamentali per il governo della città. Penso di essere una risorsa per il partito e per l'Aquila, dice il presidente della Gran Sasso Acqua. E poi ancora di spalla ricostruzione e legalità le priorità di Linardi. Il nuovo prefetto si è presentato annunciando l'intensificazione della lotta alle infiltrazioni. Campo Imperatore, esercenti infuriati, calo del 60%. Siamo stremati. Gli albergatori mostrano i dati da dicembre per 650.000 euro. Appello al Comune serve un'infrastrutturazione seria della stazione. Poi fontana luminosa ghiacciata che tormentone sui social. Ecco qui la fontana ghiacciata. E poi anche alcune vignette che vengono realizzate, che sono state realizzate dal popolo dei social. Poi ancora siamo nella Marsica. Pronto soccorso. Blitz ai parcheggi. Gli agenti della Polizia Stradale chiamati da gente esasperata hanno elevato decine di verbali. utilizzato anche il carroattrezzi. C'è chi occupava impunemente i posti riservati ai disabili e chi le zone d'emergenza dove transitano le autoambulanze. Le pagine di Chieti e provincia. La casa di Betlemme che salva dal freddo i crociard di Chieti. La civitella, la struttura della comunità Papa Giovanni. È un rifugio prezioso per scampare alla trappola della neve. C'è un solo straniero tra i 12 ospiti. Gli altri arrivano da tutto Abruzzo e la sferza dell'inverno li ha raggiunti sul call. L'entusiasmo del responsabile Luca Fortunato. Da noi un posto per la notte si trova sempre. E poi niente mercato. Scuole ancora chiuse e per l'acqua di primio attacca l'aca. Il sindaco dice abbiamo dovuto soccorrere anziani malati e l'azienda dovrà rispondere. E poi nel Chietino, come detto, resta l'emergenza. Schiavi d'Abruzzo isolati in cento e senza viveri. L'emergenza neve continua a imperversare nell'Alto Vastese. Scuole chiuse, trasporti in tilt, gesti eroici per aiutare gli anziani. Luca Conti, giovane sindaco di Casalanguida colto da Malore, mentre spalava la neve dalle strade del paese. Ora sto bene, dice il primo cittadino. Autostrada 14, vietata i camion, turbina Anas, ferma nella notte. Servono generi di prima necessità. La Val di Sangro al lavoro, così riparte la produzione. Il meteo migliora. Onda e Sevel hanno riaperto, così come altre aziende del territorio. L'istituti scolastici ancora chiusi oggi, ma nessun problema di circolazione. Il plauso di Pupillo ai concittadini. Andiamo nelle pagine di Teramo e Provincia. Per la politica, centro-destra, l'ora della difesa. Brucchi, maggioranza solida dopo il voto alle provinciali. I presunti traditori spiegano le posizioni. Sbraccia, sono i capi corrente che devono dare spiegazioni sul successo del centro-sinistra. L'ex assessore Rudy Di Stefano dice, il primo cittadino, non sta facendo gioco di squadra. E poi, rete idrica al collasso. Possibile turnazione. Il presidente della Ruzzo Reti Forlini non esclude l'erogazione dell'acqua a fasce orarie. E allora, andiamo a vedere questo servizio realizzato dalla nostra redazione Teramana sull'emergenza idrica appunto nel Teramano. Emergenza idrica nel Teramano a causa del gelo. A spaccarsi e a provocare grandi perdite d'acqua sono stati soprattutto i contatori e i tubi dei comuni verso la costa, dove la popolazione non era forse pronta a confrontarsi con il freddo polare di questi giorni. La conseguente perdita d'acqua ha portato ad uno svuotamento dei serbatoi, soprattutto nei paesi più in alto. E così la Ruzzo Reti corre ai ripari, richiama dipendenti e tecnici e progetta per le prossime ore turnazioni nella distribuzione d'acqua per permettere ai serbatoi di riempirsi nuovamente. C'è una riduzione delle portate delle sorgenti che è fisiologica in questo periodo ed in particolare con l'abbassamento delle temperature anche le sorgenti hanno subito una contrazione. Inoltre, e questo che ha generato il vero problema, ci sono stati tantissimi casi di contatori che si sono gelati, quindi sono scoppiati. E praticamente ogni contatore diventa una perdita per la rete. Quindi in questo momento noi abbiamo dei consumi che superano quelli estivi, che non sono in realtà dei consumi, sono delle perdite, però stiamo parlando di migliaia di contatori. E quindi noi siamo intervenuti già da sabato che stiamo procedendo a sostituire questi contatori. Ma addirittura abbiamo delle situazioni in cui siamo dovuti tornare sullo stesso posto per intervenire sulla rete. Alla popolazione cosa deve fare? Collaborare è fondamentale, con una duplice funzione. Prima cosa cercare di tenere i consumi nei limiti del possibile, questo per aiutare la collettività. E poi personalmente anche controllare le seconde case e andare a vedere, perché molto spesso si lasciano i contatori aperti. Secondo le previsioni della Ruzzo Reti, Teramo Capoluogo non dovrebbe avere problemi nell'erogazione d'acqua nelle prossime ore, che comunque si annunciano difficili. Intanto restano chiusi gli uffici finanziari di Largo Madonna delle Grazie, completamente allagati in seguito alla rottura di uno scambiatore sul tetto. E chiudiamo con il messaggero Abruzzo, con questo titolo nella pagina della Costa Teramana, in particolare a Giulianova. Il sindaco chiude nuovamente le scuole, bloccato il rientro in classe già da ieri pomeriggio, anche perché ci sono state polemiche sul difettoso funzionamento dei termosifoni. L'assessore Guerrucci si difende, contro di me solo maldicenze, offese e cattiverie. Se il sindaco vuole sono pronta a dimettermi altri attacchi politici nella nota del gruppo di Nicoletti, noi con Salvini. Possiamo lasciare dunque il messaggero Abruzzo, passiamo alla città, sfogliamo le pagine interne. Ecco qui la pagina 3, pagina dell'Abruzzo. La regione chiederà lo stato di emergenza, iniziata la raccolta dati dai comuni colpiti dall'ondata di freddo e neve negli ultimi giorni. L'ACA è stata costretta ad abbassare i livelli dei serbatori a causa della dispersione provocata dalla dispersione idrica dovuta alle tante rotture su tutta la rete. E avanti, sempre con le pagine del maltempo, scuole e allerta meteo che gran confusione. Oggi a Teramo si torna sui banchi, costa sorpresa dalla neve di ieri e scuole chiuse un giorno in più. A forza di sostituzioni, quasi terminati i nuovi contatori del ruzzo, gelo, guasti e perdite rischiano di causare un razionamento della distribuzione dell'acqua potabile, come abbiamo sentito poco fa anche nel servizio di Taglia Bonici Castelli. A Villaripa, contatori spaccati e utenze da riallacciare hanno ritratato il rientro delle famiglie sfollate dagli alloggi popolari comunali di Villaripa a Teramo. No, rientro solo posticipato. Poi un'altra burla sul profilo del sindaco dopo la bufala durante il terremoto, il falso annuncio sulle scuole chiuse. Elezioni provinciali dopo voto avvelenato dai franchi tiratori. Nel centro-destra continua la caccia a chi ha votato contro le indicazioni. La lista renziana si prepara al Tar. Rebus Marroni, c'è chi sta usando il mio voto per coprire qualcuno della maggioranza a Brucchi che ha votato in maniera contraria alle indicazioni. Mi diverto ad ascoltare le congetture. Poi ancora la presidenza della Team, primo bersaglio del sindaco Brucchi pressato da Gatti e Tancredi a dare un segnale forte, riprese le insubordinazioni dei franchi tiratori e malpancisti. Poi la città parla di gelosia e Narcisi assente al voto non avrebbe affatto digerito l'imminente promozione di Dodo di Sabatino al ruolo di assessore. E poi le parole dell'ex assessore di Stefano. La sconfitta in provincia è tutta colpa di Brucchi. Di Stefano torna alla carica contro ogni rimpastino e chiede il voto subito. Ricostruzione, cauto ottimismo per il nuovo polo scolastico. La regione sta tirando le somme sui progetti da sottoporre al finanziamento diretto del commissario Errani. Il problema con le nuove norme tecniche antisismiche, solo Micronido e Zippilli avranno lo standard minimo. Avanti ancora, bando delle periferie, niente fondi per quattro progetti riciclati. Il comune puntava su 16 milioni di euro dal governo, su 120 comuni. Teramo si piazza all'ultimo posto. E poi ancora, sarà incompatibile ma la tua ha fatto bene. I sindacati scrivono all'ANAC di Cantone contro la revoca del rettore Luciano D'Amico alla presidenza. Le pagine della provincia. Sbrogliato l'appalto del ponte sul Vomano. Dopo un anno di ricorsi e sentenze, l'opera della provincia a Castelnuovo sarà costruita dal lati di Eleuterio. Il nuovo ponte sul fiume Movano sarà lungo 110 metri, largo 10, avrà un costo di 6 milioni di euro. La vicenda giudiziaria ha avuto inizio lo scorso anno, quando il Tar ha sospeso l'affidamento alla Cisa Appalti, accogliendo in forma a cautelare il ricorso del lati per un cavillo sugli oneri aziendali. La vicenda è finita anche all'Unione Europea. Ufficiali le primarie ma senza posto. Ma a Tortoreto oggi la riunione per organizzare la consultazione del centro-sinistra. Tre in corsa, che sono di Buonaventura Ianni e di Nicola, ma non è escluso il nome di Augusto di Stanislau. Giornata di neve e caos a Giulianova, classi al freddo, scuola bus in panna e traffico in tilt lungo le vie cittadine. Martedì nero, impercorribili diverse vie del Lido con i genitori costretti ad andare incontro al scuola bus. Poi maltempo anche a Roseto. Il sindaco richiude le scuole, scoppia la polemica, pavone, attacca, comportamento schizofrenico e inadeguato. Di Girolamo parla di, il sindaco di Roseto parla di evento eccezionale. Niente lezioni per la giornata di oggi in tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale di Roseto. Poi ancora nella pagina della cultura, Chanel da Gubbio, l'addio al maestro alla Biennale di Scultura, le opere dell'artista Castellano, scomparso a settembre. Per lo sport, Amadio ritorna a Teramo, Dorazio Lascia è fatta per il preside del centrocampista della Latina, termina l'avventura dell'esterno sinistro che non ha convinto. Già oggi l'ufficialità, nella giornata odierna potrebbe arrivare l'ufficialità del ritorno del centrocampista Capitolino, l'esterno invece lascerà a Teramo, davanti si segue sempre Romero, strada sbarrata per Michele Marconi. Lasciamo la città, ma visto che abbiamo introdotto la pagina dello sport, vediamo i titoli principali delle prime pagine di Gazzetta e Corriere dello Sport. Juve, piazza e affari, tra ottavi di Coppa, Mercato e Triplete, Stadium 20 e 45, torna il Croato contro la Super Atalanta, Allegri parla di vero rinforzo. Rincon dall'inizio, ci accelera per Betancur e Colasinac, Baggio in corona di bala, il 10 del futuro. Gabbiadini in partenza, ma fa ancora gol, Tris Napoli, Sienischi apre, lo Spezia pareggia con Piccolo, assegno anche Giaccherini alle 17 e 30 Fiorentina. Fiorentina-Chievo. Poi ancora, sotto la testata, mondiale accadrà un 48, la FIFA ha approvato la nuova formula del torneo all'unanimità. Si parte nel 2026 con 32 giorni di gare e 16 gironi da tre squadre. Formato XXL, non è da buttare il commento di Umberto Zapelloni. Poi di spalla, Inter oggi firma Gagliardini, sabato potrà partire titolare. E poi ancora in basso, sul sito della Federcalcio, Ecco l'Italia di tutti i tempi, secondo il CT Ventura. E poi sabato le elezioni, Federciclo-Pachiderma, la sfida di Miss Gimondi, Norma, figlia del Grande Felice, candidata contro Di Rocco. Cambiamo, marcia. Prima pagina del Corriere dello Sport, li compra tutti l'Inter. Preso Gagliardini, ora Berardi e Bernardeschi. Il centrocampista già oggi da Pioli, l'operazione è costata 28 milioni, ma Suling non si ferma. Vuole anche i due gioielli azzurri. Napoli, Kettris, Gabbia gol e vola nei quarti. 3-1 Coppa Italia, Spezia KO, Giaccherini, Gabbiadini decidono in due minuti. Adesso la vincente di Fiorentina, Chievo. E poi ancora alle 20.45 lo stadion, Carica Allegri, la Juve vuole vincere tutto. E poi ancora sabato il via alla Coppa d'Africa, si giocherà in Gabon, da Aubameyang a Kessy, tutte le stelle dell'Africa. Liverpool sull'Atalantino offre 40 milioni e poi volle il rilancio di Magri. Il mio ciclo non è finito, federazione al voto, il presidente ha le idee chiare, l'esperienza al servizio del futuro. E ora andiamo a vedere le pagine del centro del messaggero, le pagine dello sport. Ecco qui il centro, calcio a mercato, assalto ad Augustin, ma il PSG non molla. Venerdì il Delfino incontra i francesi, Ventura oggi al Poggio. Il CT della Nazionale fa visita ai Biancazzurri, Kubas sbarca in città. Zuparic saluta i tifosi e firma per i turchi del Casimpasa. Bovo K.O. ora Ghiomber potrebbe rimanere. Visto che abbiamo letto di questo arrivo in città di Kubas, possiamo vedere delle immagini che si riferiscono all'arrivo di Kubas. Sentiamo le sue parole. E a salutarle, sono arrivati e ora cammino a Pescara, quindi salutarle a tutti i tifosi e mandarle un saluto grande. Questo è dunque il saluto ai tifosi del nuovo centrocampista del Pescara, l'argentino Adriana Andres Kubas, che è sbarcato ieri nel primo pomeriggio a Fiumicino, poi l'avete visto mentre ero in viaggio verso Pescara con quel videomessaggio. E qui l'incontro con il presidente Sebastiani negli uffici del presidente del Pescara per la firma del contratto. Abbiamo visto anche il team manager Jess, anche Roberto Druda, centrocampista argentino, che arriva dal Boca Junior con la formula del prestito con diritto di riscatto. C'è stato anche il placet della Juventus che detiene una opzione su Kubas per via dell'affare Tevez. E dunque Kubas già da oggi sarà a disposizione del tecnico Massimo Oddo. E poi ancora questa curiosità, Fiorillo e Baebec sfilano al Pitti. Jean-Christophe Baebec e Vincenzo Fiorillo, qui nella foto con tra gli altri anche la giornalista di Sky diretta Leotta, ospiti presso i padiglioni espositivi dello sponsor Armata di Mare al Pitti Immagine Uomo di Firenze. Poi ancora parla Pasquato, l'ex Biancazzurro Pasquato. Pescara ti racconto il mio Gila, l'ex Biancazzurro svela i segreti del bomber. Siamo stati insieme a Bologna, è un ragazzo di un'umiltà incredibile, un leader silenzioso che potrà salvarvi. Ora gioca in Russia, esperienza bella, però mi mancano la famiglia. Pescara, in estate sono stato un passo dal ritorno, faccio il tifo per voi. Eccoli qua in maglia Bologna, Cristina Pasquato e Alberto Gilardino. Lega Pro, ovviamente anche in questo caso impazza il mercato, Teramo in attacco, spunte il nome del bomber Marconi. Oggi dovrebbe essere il giorno della firma per Amadio, anche Trapani e Vicenza sul centrocampista Bulevardi. Poi per il calcio a 5, Ricci e Colini. Il derby sfida tra amici, il tecnico dell'Acqua e Sapone dice ci conosciamo bene, Fulvio è il migliore. L'allenatore del Delfino, le nostre squadre sono diverse ma equilibrate, la differenza la faranno i giocatori. E poi ancora per la serie D, Morgia, Striglia, L'Aquila, squadra a rapporto per ore. Il tecnico ha voluto analizzare nei dettagli la pesante sconfitta di Monterosi, Peluso. Il mister ci ha caricati, siamo pronti a ripartire, Mallus, verso l'esordio. Sempre per la serie D, Dimeo, l'ex tecnico della Vastese, parla della sua ex squadra. La Vastese lotterà fino alla fine per il vertice. Il tecnico del San Marino domenica torna per la prima volta da Exa, l'Aragona o la città nel cuore. E poi la SSD Chieti, radiata dalla Federcalcio, Tavecchio ha preso atto del fallimento della società Pineto. E' arrivato Fiumara. Per il basket, amoroso Roseto, stai tranquillo, non vado via. L'ala cercata dalla Fortitudo, ma anche da Roma, Caserta e Capodorlando, qui sto bene, sono vicino a casa. Cimorosi, Lapidario, Valerio non si muove. Sul fronte Proger, la Proger punta Raucci e Fallucca aspetta il Ferrara di Trullo. Per il rugby, Di Marco, l'Aquila che pesa la numero 10, appena maggiorenne, è una rivelazione, un sogno giocare in prima squadra dopo 8 anni di giovanili. Per il volley di A2, la Seco in attesa del trittico, batte gli Azzurrini. L'impavida fa 3-0 all'Italia Under-19. Coach Lancia, ora testa al finale di regular season. Rapidamente anche con il messaggero Abruzzo. Pescara cerca altre punte, si lavora per Pesic dell'Atalanta, piacciono anche Razic e Rodriguez, ma si spera nell'ok del Paris Saint-Germain per Augustin. Ieri intanto è sbarcato in Italia il mediano argentino Cubas, si limano gli ultimi dettagli per il ritorno di Mandragora. E poi Zuparic ai saluti, vi porterò nel cuore. In basso per il basket, Roseto cerca un play, richieste per amoroso, contatti per l'esperto Valerio Spineglio per il ritorno di Marulli da Reggio Calabria. In partenza può esserci Paci. Poi ancora torna il campionato, ma c'è l'insidia neve, parliamo di rugby. A forte rischio la gara dell'Aquila sul campo del Benevento e la sfida casalinga del Gran Sasso contro la Capitolina. Poi per la Serie D, la vista all'Aquila, una sconfitta che ci farà bene. Vastesi, il lungo stop preoccupa Colavitto, i biancorossi preparano la sfida interna col San Marino. Nel Pineto, Out Malocu, ma arriva Fiumara. Poi per la Lega Pro, Teramo in partenza, Dorazio, Amadio. Manca solo l'ufficialità e poi rapidamente Chieti, ieri il passo d'addio, arrivata anche la radiazione per il calcio a 5 femminile tra Montesivano e Lazio. Oggi in paglio la Supercoppa di calcio a 5 femminile. Possiamo fermarci qui con la rassegna stampa di Mattino 6. Io ringrazio in regia Maurizio D'Agui, ringrazio voi per la cortese attenzione. Vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari, con tutti gli ultimi aggiornamenti, in particolare sul fronte del maltempo, i Tg6 delle ore 14, 19 e 23. Grazie ancora per l'attenzione e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.